Una raccolta di firme per richiedere l'avvio anche a Manduria di un'indagine epidemiologica per stabilire il nesso causale tra fattori inquinanti ed alcune patologie maggiormente diffuse tra la popolazione e l'iniziativa dell'Associazione dei Verdi di Manduria scaturita da un convegno pubblico salute e bene comune dal tema malattie da inquinamento quando la l'ambiente diventa una minaccia per un'indagine epidemiologica a Manduria. Relatori i medici per l'ambiente dell'ISDE. Abbiamo sentito la dottoressa Maria Grazia Serra. Dottoressa Serra, c'è una stretta relazione tra le condizioni ambientali e la salute? Assolutamente sì, è un binomio inscindibile. Noi siamo modificati dall'ambiente, quindi tutte le malattie che in questo momento osserviamo da 25 anni a questa parte sono condizionate dall'ambiente in cui viviamo. Cosa farà emergere questa sera? Io presento un po' i medici dell'ambiente, quindi l'ISDE nella relazione e spiego perché nasciamo. Quindi il discorso è strettamente correlato allo studio scientifico degli inquinanti che interferiscono con la nostra salute. E poi parlerò di un progetto perché dobbiamo lavorare assolutamente sui giovani che sono il nostro futuro e quindi un progetto scuola che parte proprio nelle scuole a livello nazionale per educare i ragazzi ad avere degli atteggiamenti più ecosostenibili, quindi a operare delle scelte virtuose. Diamo qualche consiglio proprio ai ragazzi che ci stanno ascoltando? Uno che mi viene in mente subito è di non tenere il telefonino a contatto con le parti del corpo perché è assolutamente nocivo e di usarlo il meno possibile, di parlare con gli auricolari se possibile. Una cosa importantissima considerato che siamo eternamente connessi. Assolutamente, questo i ragazzi devono imparare a utilizzare questa tecnologia modulandola, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo provare a stare più insieme, probabilmente è un fatto culturale che si può fare tranquillamente dando a loro i mezzi opportuni. Oggi sono stata qui a Manduria in una scuola dove devo dire la verità sono stata stupita perché è un atteggiamento molto positivo, molto ottimista, molto costruttivo. C'è attenzione in particolare su Manduria, perché? Ma sicuramente Manduria è stata intanto esclusa dai siti di interesse nazionale e questo è a mio avviso non giusto. Poi ci sono queste criticità per quanto riguarda le discariche che sicuramente hanno portato delle problematiche sulla salute, è necessario uscire fuori con i dati epidemiologici. Ci sono malattie che hanno un incremento particolare qui? Le malattie infiammatorie croniche stanno aumentando decisamente in questo territorio, quindi sicuramente ci vuole un'attenzione particolare con degli studi scientifici approfonditi e misure di prevenzione primaria. In base alle malattie si può scoprire poi quali sono eventualmente le sostanze che maggiormente incidono e che potrebbero essere nel territorio? Sicuramente c'è un'eziopatogenesi che noi possiamo estrarre fuori. Ci sono dati scientifici che noi già abbiamo delle correlazioni con specifiche malattie, quindi è facile fare questo una volta che si hanno i dati epidemiologici. Adesso quello che ci interessa maggiormente che vediamo noi sono proprio le malattie del sistema nervoso che sono in forte aumento, sta cambiando completamente il nostro modo di vederle e di classificarle, quindi non più malattie dell'anziano ma malattie dovute a un'infiammazione cronica che purtroppo è reiterata nel tempo con l'insulto dell'inquinamento. La salute è stata considerata sinora come attinente alla sfera del privato, un bene da salvaguardare individualmente. Allo stesso modo da soli o nel ristretto ambito familiare si affrontano le evenienze in cui la salute viene a mancare, ma quando come i nostri giorni il diffondersi di alcune patologie assume le dimensioni di un fenomeno di massa, è necessario incominciare a interrogarsi sulla necessità di una presa in carico collettiva del problema. Per questo i verdi ritengono che la salute debba essere considerata bene comune. Quando poi sono proprio le matrici ambientali, suolo, acqua e aria, compromesse dall'opera dell'uomo, a costituire una minaccia per la stessa vita, si comprende come porre in relazione salute e ambiente all'interno della stessa nozione di bene comune sia ormai un'operazione necessaria e indifferibile, così come ormai indifferibile, è l'individuazione certa dei nessi causali tra inquinamento ambientale e patologie. Questo è il primo di tre incontri che i verdi hanno programmato qui sul territorio di Manduria. Con quale obiettivo? Sì, abbiamo scelto comunque i medici dell'ISDE, che sono i medici cosiddetti dell'ambiente. Loro sono molto preparati sulle malattie provenienti da inquinamento, cioè quelle che fanno proprio il caso nostro. Quindi parliamo noi di patologie che ci sono sul territorio e proviamo a verificare come mai ci sono, esistono. Questo ce lo può dire comunque, lo può certificare un'indagine epidemiologica, è quello che noi cerchiamo di ottenere e come la vogliamo ottenere, raccogliamo le firme dei cittadini, invito tutti i cittadini, noi poi organizzeremo dei banchetti in piazza per raccogliere firme, per chiedere al sindaco, al presidente della regione, al presidente della provincia, un'indagine epidemiologica sul territorio. Perché abbiamo notato dal registro tumori che le patologie insistenti sul territorio, la percentuale dei malati di cancro oppure anche di malattie autoimmuni, sono più o meno, sono incrementati ma sono più o meno praticamente pari a quello che diciamo le stesse che abbiamo a Taranto. E' un motivo c'è, sicuramente è la posizione geografica, Taranto e Manduria è in mezzo a Taranto e Brindisi. Noi pensiamo, sono supposizioni logicamente, le due discariche, le numerose discariche abusive, il cemento presente nelle nostre case. Questo sottovalutato però incide anche quello. Incide molto secondo me, anzi più di tutti, perché purtroppo, ed è tutto fatto legalmente, non voglio colpio di organizzare nessuno, purtroppo la legge su rifiuti dice che i materiali, gli scarti provenienti da incenerimento possono essere riutilizzati nell'edilizia e quindi nella costruzione del cemento. La vostra è anche, diciamo, una battaglia proprio per modificare questi dispositivi di legge che poi, come vediamo, non sono rispondenti ai criteri di salubrità per il cittadino. Sì, noi tentiamo a fare tutte queste cose, però purtroppo ci sono altre leggi che ostacolano. Io, per esempio, prima nella mia presentazione ho parlato anche della legge sugli ecoreati. La maggior parte degli inquinanti sono prevenienti da siti legali e quindi non abusivi. La legge sugli ecoreati dice, fra le altre cose, che è passibile penalmente chi appunto provoca disastro ambientale abusivamente. E qua invece ci troviamo in un caso, in casi, dove le discariche sono legali, autorizzate dalle varie autorizzazioni interiore ambientali. costruire e fabbricare il cemento e lo dice la stessa legge, il decreto Ronchi, se non sbaglio. E quindi, cioè, è tutto legale e non è abusivo, ma è stato fatto tutto. Come ne usciamo? Bisogna, ovviamente, cambiare la legge, bisogna modificare lo sblocco Italia, anzi, bisogna eliminarlo, bisogna cambiare la legge sugli ecoreati e bisogna, in un certo senso, abbassare anche i limiti di inquinamento perché mi sembra che li hanno anche aumentati. Grazie. Grazie. Grazie.